In questo video ci tengo a precisare che io di Paolini ho ereditato semplicemente l'inquadratura video quindi per il resto io sono io mi chiamo Niki Giussino, sono nato a Roma il 23 gennaio 1995 e lui si chiama Gabriele Paolini siamo completamente due persone diverse quindi non inviatemi commenti anche cattivi riguardo a Paolini inviatele a lui, a me, me volete mandare a quel paese? mandatemici, non mi dite manda a quel paese Paolini da parte mia no, mandatecelo voi io penso a me, penso alla mia identità nikigiusino.it e si spera che per una volta per tutte l'avete capito che non sono Paolini ma sono Niki Giussino salve!